In questo approfondimento parliamo di fenomeni idrogeologici atmosferici, ci colleghiamo con Samuele Venturini, biologo e ricercatore appunto per avere dei chiarimenti. Benvenuto Samuele. Ciao Barbara, ciao a tutti. La frana che ha colpito Ischia il 26 di novembre ha lasciato dietro di sé otto vittime e danni davvero ingentissimi. Cosa è accaduto e soprattutto ci sono delle responsabilità? Sì, questa è un'ennesima tragedia annunciata. Che cosa è successo? Un nubifragio si è abbattuto appunto sull'isola scaricando all'incirca 130 mm di acqua, ma data comunque la geologia di Ischia ciò ha provocato alluvione e frane. Possiamo quindi delineare delle cause naturali, ossia intrinseche al contesto. Sono sempre accadute e sempre accadranno. Quali sono queste cause naturali? Il dissesto idrogeologico. Ricordiamo purtroppo che ben il 94% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico. E poi come citavamo poco fa appunto la natura, le caratteristiche e quindi la geologia dell'isola di Ischia la rendono una zona soggetta a rischio vulcanico, sismico e idrogeologico. Infine il quadro sinottico meteorologico indicava proprio una marcata tendenza all'arrivo di un forte maltempo. Attenzione ho parlato di maltempo, quindi evento meteo e non climatico mi raccomando. Infine abbiamo però delle cause o per meglio dire responsabilità antropiche, cioè umane. Per esempio sono l'eccessiva urbanizzazione che è stata fatta nonostante la consapevolezza dei rischi sopra riportati. Poi abbiamo l'abuso edilizio, l'abusivismo edilizio, i condoni o le infrastrutture sotto servizi fattiscenti, ma soprattutto l'incuria del territorio e l'inadempienza della manutenzione che hanno reso molto scarse le misure di sicurezza. Insomma c'è una grave responsabilità amministrativa che ha portato alla morte di otto persone e a danni veramente ingenti. Si sente dire che questi nubi fragi sono sempre più violenti e che accadono con maggiore frequenza rispetto a prima. Qual è la sua opinione a proposito? Ischia è un'isola vulcanica e ha origine da circa 150 mila anni fa. Perché dico questo? Perché abbiamo la possibilità di rintracciare i principali eventi successi anche in passato e infatti i dati ci dimostrano che a livello vulcanico le fumarole sono ancora attive. Quindi Ischia è un sistema vulcanico vivo per cui c'è ancora un rischio vulcanico acceso. Poi Ischia è stata costellata da terremoti anche, terremoti sismo vulcanici. Pensiamo solo a Casamicciola appunto, sono stati presenti terremoti anche moderati già dal 1700 e pensa che il 1883 il terremoto moderato ha provocato la morte di circa 2000 persone a Ischia. E poi c'è appunto il rischio idrogeologico perché già in passato la campagna e quindi anche le sue isole è tipicamente soggetta a nubi fragi, alluvioni autunnali. La peggiore pensa è stata quella del 24 ottobre 1910 che ha colpito proprio Ischia portando a vittime 15 persone. Lo scorso 22 novembre invece si è avuto acqua alta a Venezia questo fenomeno e si è raggiunto il record di ben 204 centimetri. Come si inquadra questo fenomeno? Innanzitutto l'acqua alta a Venezia è un fenomeno, un evento naturale tipicamente anche qui autunnale, ottobre, novembre, dicembre sono i mesi più appunto colpiti. Perché accade l'acqua alta? Perché vi sono fattori, diversi fattori che interagiscono tra loro, quelli astronomici come le maree, quelli geologici come la subsidenza e l'eostatismo, ossia la normale naturale variazione del livello del mare, poi vi sono quelli meteorologici come la differenza di pressione, i venti, le onde di sessa e gli indici teleconnettivi e infine quelli antropici, per esempio il prosciugamento delle falde sotto Venezia e l'aumento della costruzione e dell'urbanizzazione hanno dato un contributo alla subsidenza stessa, cioè hanno abbassato il livello del suolo. Quello che è successo appunto il 22 novembre è un record che comunque non ha superato quelli precedenti, perché quello che è stato registrato secondo il Comune di Venezia è 173 centimetri, i 204 sono quelli registrati in base all'altezza delle onde che sono state rilevate a largo dove c'era la diga, causata appunto dal vento di Scirocco. Il record che rimane ancora in battuta è quello del 4 novembre 1966 con ben 194 centimetri di acqua alta. Ecco che quindi quello che è noto in questi eventi è che purtroppo si cerca di rendere anomale le normalità naturali, probabilmente si vuole distogliere l'attenzione da chi in realtà ha delle vere responsabilità, quello che possiamo fare però appunto è mitigare questi impatti avendo la conoscenza di questi eventi. Benissimo, grazie davvero per le sue puntualizzazioni a Samuele Venturini, ricordo biologo e ricercatore. Alla settimana prossima, Samuele. Grazie a voi.